Il canto di Natale quest'anno è stato scritto a Lodi, cittadina incastrata nelle campagne lombarde, che ci porta un dono di fine anno significativo perché rimette i sensi a posto, restituisce le parole al suo significato e perché racconta una vicenda che racconta un vocabolario politico, per comprendere come il leghismo, ma più in generale il cattivismo, la voglia di disgregazione, l'arroccamento ignorante, franino di fronte alla realtà degli eventi delle leggi. Qui a Lodi nel 2017 la sindaca leghista Sara Casanova aveva pensato di ritagliarsi un po' di notorietà, con un nuovo regolamento comunale che discriminava l'accesso dei bambini stranieri ad alcuni servizi essenziali come la mensa scolastica e lo scuolabus. Aveva pensato, quel gran geniaccio di sindaca, di imporre delle regole apposite per i genitori degli alunni stranieri, prevedendo l'accesso alle tariffe agevolate, che in Italia vengono stabilite in base al reddito, richiedendo dei documenti aggiuntivi che certificassero chissà quali ricchezze nascoste nei loro paesi d'origine. Del resto era un ottimo modo per inoculare il dubbio che gli stranieri scappino dal loro paese dalla guerra lasciando dietro di sé enormi ricchezze. Una persona normale ci riderebbe su, i sovranisti invece, poverini, ci scrivono golosi teoremi e profondi editoriali. La vicenda era odiosa perché metteva di mezzo gli stranieri, ma soprattutto perché se la prendeva con i bambini. Del resto è tipico dei leghisti fare i forti con i deboli, loro ci riescono solo così e si sentono perfino dei condottieri poveretti, quando sono solo gli scherani di una poraccitudine che affila i denti sulle prede indifese. Era andato a finire che molti genitori avevano chiesto di condividere i pasti dei propri figli con i bambini stranieri. Del resto dividersi il pane dovrebbe essere l'atto politico più alto e nobile. Nel 2018 l'Asgi, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e i Naga, l'associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria per i diritti di cittadini stranieri Roma e Sinti, presentò un ricorso contro il regolamento del Comune di Lodi. 13 dicembre 2018 un'ordinanza del Tribunale di Milano stabilì che il regolamento era discriminatorio, ma va? Chiese il ripristino dei precedenti criteri di accesso alle giovaluazioni per le messe e il trasporto scolastico. La sindaca Casanova insiste, presente al ricorso. Ora la Corte d'Appello di Milano ha respinto al ricorso. Nella sentenza si legge. La differenzazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi, introdotta in punti di documentazione su reggiti beni o posseduti, all'estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini e di stati extra UE per ragioni di nazionalità, perché di fatto attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti rende loro difficoltoso concorrere all'accesso alle prestazioni sociali agevolati, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l'integrazione della comunità di conglienza. Ne consegue il respingimento dell'appello presentato allo stesso Comune. Ah, il Comune di Lodi è stato condannato a pagare le spese legali sostenute dal Comitato Uguali Doveri, una rete di cittadini meravigliosa che in quei giorni si è costituita per difendere il diritto di essere uguali. Sconfitti e costosi, eccoli i sindaci leghisti, e quei giorni orrenti sono diventati un manifesto di umanità. Buon giovedì.